Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, la Lancia Stratos HF Libreale Italia, numero 10, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga, edizione Centauria, un modello in scala 1 a 8, uscita numero 47. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, qui in questo numero, oltre a montare il cruscotto con la strumentazione, andremo a fare la prova luci proprio del cruscotto, quindi la retroilluminazione, ma prima di fare questo ci tenevo a darvi i miei più sinceri auguri di una serena Santa Pasquetta, che è la giornata di oggi che sta volgendosi al termine, e un sereno Santo Natale per la giornata di domani a voi e a tutti i vostri cari e più cari, con tutto il mio cuore, ringraziandovi sempre per le visualizzazioni e le iscrizioni, e per le persone che ancora non si sono iscritte, ma che mi auguro abbiano il piacere di farlo, iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto, grazie. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Ecco qui, le uniche due mezze pagine che hanno dedicato ad ogni fascicolo a questa icona automobilistica. Peccato. Alla fine di questa sessione di montaggio, restate con me perché prenderò il modello e vi farò vedere il punto in cui siamo arrivati con il montaggio fino al montaggio numero 47. all'interno troviamo il cruscotto che andiamo a vedere bene nel dettaglio se riesco a farvelo vedere, avrei piacere di farvi leggere anche le scritte. Vediamo se ce la faccio. Guardate soltanto cosa si è scritto qui. LUCI POSIZIONE REOSTATO LUCI STRUMENTAZIONI LUNOTTO Vabbè ci manca una stanghetta sotto, sembra un po' il linguaggio dieta beta, vi ricordate? Fermico. Allora l'unotto termico eccolo qui. VENTOLE CONTATTO CHE FORTE FENDI NEBBIA FARI DI PROFONDITA, FARI EMERGENZA, LUCI RETRO Aspettate perché non riesco, mettiamo così, guardate. Ecco, POMPA BENZINA, AVVIAMENTO POSTERIORE ANTERIORE RISCALDAMENTO REOSTATO CRONO NOTE ANABBAIANTI, AVBAIANTI, VENTOLA C'è scritto TROMBE No, scusate, devo capire cosa c'è scritto qua TROMBE OK SERVIZI, TERGI POSIZIONI E O direi ALTIMETRO Mi sembra un po' strano Aspettate, devo controllare, metto pausa un attimo E mi sembrava alquanto imporabile l'altimetro, Michela è un aereo ALTERNATORE ALTERNATORE Ecco Quella scritta lì, in verticale La penultima, prima delle posizioni E ALTERNATORE Beh, vi ho fatto leggere tutto, dai Ecco qui Poi abbiamo questo Che è la cornice dei quadranti I quadranti Guardate Guardate con che precisione si riescono a fare oggi le cose Anche così piccole, vi rendete conto? Bellissimo E poi abbiamo Un adesivo Che ci permetterà Di tenere i cavi fermi Mamma mia, che brutte dita che ho, ragazzi Scusatemi Mi sono molto rovinato con il lavoro E ho provato a mettere i guanti Ma non riesco a fare video con i guanti Allora, andiamo a prendere Tutto questo intreccio di cavi Ma non ci sono problemi L'importante è non tirarli Non subiranno alcun danno Loro ci dicono di andare a staccare Un po' di cavi, vedete? Questi Cerchiati in rosso Ma io non staccherò nulla Perché si può montare anche così Se poi dovrò staccarlo in seguito lo farò Ma per adesso no Non lo faccio C'è anche una serie di viti A P Andiamo a prenderne subito 2 Tra l'altro vi dico che hanno commesso anche un errore Ma un errore che chiunque di voi se ne sarà accorto Adesso ve lo faccio vedere L'errore è questo Quando ci dicono di provare la luce cruscotto Ci dicono di una volta che abbiamo fatto l'accensione Che poi non so voi ma io anche senza questo Funziona lo stesso il mio Ci dicono di schiacciare questo Mentre invece la prova cruscotto Sono queste due luci qua O uno o l'altro funzionerà con tutte e due Perché sono le luci accendendosi le luci Se accendo il cruscotto Mentre invece questo in basso a destra E l'acceleratore Il rombo del motore Quindi qua hanno sbagliato Però insomma Non ci sono problemi Non vi spaventate Perché ecco Schiacciate quelle sopra E funzionerà di sicuro Andiamo quindi a prendere questo Prendiamo i quadranti E li mettiamo così Perfetto Poi Prendiamo questa cornice Non mettete le dita sui led Mi raccomando Quindi andiamo a metterla così Posizioniamo questa qua sopra In questa maniera Così La giriamo al contrario Ecco qua E avvitiamo la prima vite Non premete Perché rischiate di rompere le plastiche Mettete sempre il dito di contrasto dietro Non ho avvitato nulla Svitiamo di nuovo Adesso si Lo stringete tutto subito Perché deve combaciare anche con questo foro qui Vedete che è un po' disassato Comunque poi lo aggiusteremo Non ci sono problemi Adesso prendiamo il cruscotto Ok Andiamo a mettere così Andiamo a fissarlo con una vite sempre A Questa Questa Adesso poi andiamo a vedere le luci Sicuramente saranno splendide Ok Non stringete troppo forte Altrimenti lo alzate da quest'altra parte Fatemi vedere una cosa Ci va poi un'altra vite di qua Quindi non ci sono problemi Andiamo a mettergliela subito Quanto mi piace questo modello A parte la storicità Attenzione ragazzi A non rompere i fili Fate così Tenete il dito sopra E piegate il rame Così Stavo dicendo A parte la storicità Che ha quest'auto Per le vittorie conseguite Ma poi la bellezza proprio dell'auto Ecco qua Controlliamo Qua lo vedo sempre alto Vedete E non mi piace Un attimo che metto pausa E poi se c'è qualcosa da dirvi Ve lo dico Senza fare ulteriormente Un video troppo lungo Ok A dopo Allora ragazzi Guardate il problema L'ho risolto Non bisogna avvitare troppo questa vite qua Almeno sul mio cruscotto È successo questo Vedete che adesso qui tocca dappertutto Non c'è più gioco Se io avvito troppo questa Mi si stacca qui il cruscotto Si apre Invece così è perfetto Ed è così che la lascio Bene A questo punto Prendiamo il nastro adesivo E ci dicono di metterlo così Facciamo girare i cali senza tirarli dalla saldatura Li facciamo girare come nel disegno Vedete Verde esterno rosso interno E li blocchiamo Solo che loro Ci fanno mettere nella foto Il nastro qua Sopra questa Non so se si chiama resistenza Io sono ignorante In elettronica Io non vi consiglio di metterlo sopra Guardate loro qua Vedete ci fanno coprire questo Io non lo copro invece Non so se cambia se lo copro oppure no Ma mi sento di non coprirlo Perché magari scalda Sicuramente prende meno il nastro Una volta che è chiuso dietro Chi se ne importa Tanto secondo voi questo nastro non si stacca con il tempo Figuriamoci Bene Eccolo la strumentazione Adesso andiamo ad accenderla ragazzi Avete visto non abbiamo staccato alcun cavo Prima di accenderla Prendiamo il pacco batterie E Inseriamo L'alimentazione Lettera E E E l'abbiamo inserito Poi accendiamo L'interruttore Acceso E poi proviamo Ovviamente se io schiaccio quello che dico Come loro non succede nulla Perché questa è l'accelerazione Se invece vado a toccare o questo o questo E non succede nulla allo stesso Aspettate Ah era già acceso Era già acceso l'interruttore Io l'ho spento Allora dicevo Se schiaccio questo Non succede nulla Perché si accendono gli stop Giustamente Perché è la luce dei freni Non dell'acceleratore Ho sbagliato prima chiedo scusa Dei freni Ma se schiaccio questa Ho questa Guardate Adesso spengo un po' di luce Altrimenti non si vede bene Diminuiamo anche queste Ok E ancora vi dico che ci sono troppe luci accese Comunque guardate Che figata Scusate il termine È bellissimo Guardate che retroilluminazione Spettacolo Eh ho schiacciato senza volerlo Spettacolo Ma è bellissimo Diciamo la verità È veramente bello Vedete che sotto tocca dappertutto Che modello che stiamo montando ragazzi Che modello che stiamo montando Claxon Accensione Spegnimento Paff Bellissimo Sono veramente soddisfatto Bene Adesso prima di salutarci Prendo il modello Non metto neanche la pausa Facciamo così Eccolo qua Allarghiamo un po' di più l'immagine Così Guardate che spettacolo questa macchina Quanto mi piace Quanto mi piace questa vettura Questa autovettura Questa regina Qua poi andrà la ruota di scorta Adesso possiamo Ricordatevi Di spegnere l'interruttore Stacchiamo il cavetto E dell'alimentazione Ecco qua Questo poi va messo così Vi devo ricordare come vi avevo fatto vedere l'altra volta Così Questo va messo poi così Andiamo a prendere anche Gruppo fari secondari Eccoli qui Aspettate che devo accendere la luce Mi sono dimenticato Ecco Con le plastiche che sembrano veramente fatte in vetro queste parabole Volevo farvi leggere la scritta Carello E' quella della scritta Carello Qua Avete visto le plastiche come sono? Sembrano di vetro Bellissime Questa è la copertura del gruppo fari secondari Eccola qui Glauco scusami ancora non ti ho risposto Perché veramente sono stato preso con tante cose oggi Oltre ad aver lavorato anche Comunque non ti preoccupare si risolve tutto per gli elastici E questo è il favoloso musetto Guardate come lucida la vernice Una finitura impeccabile Questa Livrea l'Italia meravigliosa Questa l'Italia che purtroppo non è più con noi Grazie a chi governa senza saper governare O meglio a chi governava Ecco qui Targhetti in alluminio verniciato Bellissima Qua come potete vedere ci sono i cavetti Ma non ci sono gli sganci rapidi Perché li ho levati Come vi ho consigliato anche voi di fare fin dall'inizio Per evitare che vadano perduti E questa è la parte interna Con i cavi che alimenteranno il gruppo fari primari Questi E il gruppo fari secondari Questo Bene ragazzi Io vi ringrazio Adesso vado a prepararmi il numero 48 E poi per stasera ho finito finalmente Dimenticavo anche di farvi vedere il volante In metallo Verniciato Sia il nero che il grigio e vernice Bellissimo Quindi vi dicevo Vi ringrazio il vostro tempo Ricordo alle persone che non ci sono ancora iscritte Sempre che ne abbiano il piacere di farlo E di attivare la campanella E rinnovo ulteriormente gli auguri di Natale per domani E per una serena Santa Pasquetta stasera Con questa giornata che sta finendo Domani Almeno per i cristiani Caltolici Non è solo una festa fatta di doni natalizi E non ne parla nessuno Domani c'è Il compleanno ragazzi Come per noi Solo che Per qualcuno che È molto ma molto di più di qualsiasi altra cosa Gesù Cristo Il Salvatore Quindi ecco Ricordiamolo ai bambini Io non ho figli È andata così per cui Per chi invece ne ha Ricordatelo ai vostri bambini Che domani È la nascita del Salvatore E chi è il Salvatore Ok Un abbraccio a voi E un saluto a tutti i vostri cari tu cari E grazie Grazie sempre Di continuare a dar vita al canale Ciao ragazzi